Sì, innanzitutto avremo il Vescovo Armando che ovviamente è sempre molto sensibile alle problematiche del nostro territorio e poi abbiamo tanti relatori, devo dire, perché parlare di queste tematiche è bene parlarne con tante persone che vivono magari questa esperienza perché sono psicologi, unità di strada e quindi avremo il Capitano Alfonso Falcucci che è il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fano avremo la dottoressa Alessia Guidi che è una psicologa, psicoterapeuta della cooperativa Irsa Aurora Nuove Dipendenze di Fenile avremo il dottor Cesare Grianti che è il dirigente medico del laboratorio di tossicologia Area Vasta 1 e avremo anche dei DJ perché comunque sono anche loro i primi interlocutori di quello che è un po' il popolo della notte abbiamo un DJ di fama nazionale, anche un produttore musicale che è Frankie P avremo Luca Valentini che è un DJ e ci porterà la sua esperienza di essere DJ negli anni 80, 80, 90 e avremo Marco Battini e questo ci abbiamo tenuto molto perché Marco Battini è il coordinatore del coordinamento unità di strada della regione Emilia Romagna e anche dopo i fatti di Riccione è stato intervistato anche dal Corriere della Sera e proprio per capire qual è il mondo dei giovani di questo popolo della notte e avremo poi anche Francesco Loiacono che è un addetto alla sicurezza. Ecco, una cosa di rilevante importanza è il fatto che la diocesi esce un po' dalle sue stanze, dai suoi ambiti per andare in un luogo frequentato dai giovani, cioè dove i giovani vivono la loro realtà e il loro divertimento. Esatto, avevamo già iniziato con Imperfetti Sconosciuti, il corto che abbiamo presentato al Politeama e anche con questa iniziativa stiamo un po' accogliendo quello che ci dice continuamente il Papa, quello di essere una chiesa in uscita e abbiamo pensato che lo chalet fosse il luogo adatto anche perché è uno dei riferimenti della Movida Fanese, quindi se vogliamo arrivare veramente a tutti i giovani dobbiamo andare dove i giovani sono e nei luoghi che i giovani frequentano.